Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Oggi amici parleremo di uno di quei casi che secondo me vi traumatizzeranno, un caso a cui sicuramente da oggi in poi penserete ogni volta che dovrete andare dal dottore, o perlomeno per me è stato così. Ma prima di iniziare il video voglio ringraziare lo sponsor di oggi. Oggi vi parlo del film Chi è senza peccato The Dry, un film ovviamente crime, un bellissimo thriller tratto dal grande successo del libro di Jane Harper, infatti per l'occasione è stata anche fatta una seconda ristampa. Il film è realizzato dai produttori di The Undoing e L'amore e il bugiardo Gone Girl che è stato tratto da una storia di True Crime che sicuramente conoscerete e che magari prima o poi tratteremo qua sul mio canale. Chi è senza peccato è un film pieno di colpi di scena con tantissima suspense e con un'incredibile interpretazione di Eric Bana. Attore che interpreta un detective di polizia che torna nella sua città natale dopo 20 anni per il funerale di un suo amico. La polizia locale però ritiene che quel suo amico, prima di togliersi la vita, abbia ucciso sua moglie e suo figlio. Da queste ricerche però verranno fuori altri crimini che secondo il protagonista della storia sono tutti collegati tra loro. Sembra veramente una delle storie di cui parliamo qua sul mio canale quindi sono sicura che vi piacerà da morire, io sono qui per dirvi di andarlo a vedere al cinema. Io non vedo l'ora di vederlo, il film uscirà solo al cinema l'11 novembre quindi tra tre giorni. Mi raccomando andate e magari taggatemi nelle storie se andate a vederlo e fatemi sapere se vi è piaciuto. Grazie allo sponsor di oggi ma soprattutto grazie a voi. Dunque iniziamo con la storia di oggi sarà un video veramente lunghissimo e faccio solo una piccola premessa perché so che alcuni di voi si arrabbiano quando faccio degli errori. Questo caso parlerà di chirurgia e neurochirurgia e come potete vedere io sono solo una ragazza in una scatola e non ne so niente di medicina. Inoltre ho dovuto ovviamente tradurre tutto questo caso dall'inglese per fortuna che ho visto tutte le stagioni di Grey's Anatomy in inglese perché se no non ce l'avrei mai fatta. Se dovessi sbagliare qualche termine soprattutto termini tecnici, medici, magari non sono riuscita a trovare l'esatta traduzione in italiano insomma vi chiedo per favore di avere pieta di me. Vi assicuro che ce la metto veramente tutta per realizzare questi video. Faccio tutto completamente da sola e non è semplice ma se sbaglio giuro non lo faccio apposta però siete liberissimi di correggermi nei commenti. Detto questo cominciamo. Oggi parliamo del dottor Christopher Dunge. Christopher Dunge, detto Chris, nasce nel Montana il 3 aprile del 1971 ma cresce e passa gran parte della sua giovinezza a Memphis, in Tennessee. Ha tre fratelli, suo padre è Donald Dunge, era un fisioterapista e un missionario della chiesa cristiana, molto cattolico, mentre sua madre, Susan, faceva l'insegnante. Chris Dunge si sposta a Dallas nel 2011 per un lavoro. Chris è un bell'uomo, carismatico, brillante e il suo lavoro è salvare la vita alle persone. Sì perché Chris Dunge fa il neurochirurgo al Dallas Medical Center ed è specializzato nella chirurgia della colonna vertebrale, è un chirurgo spinale. Il dottor Dunge aveva la reputazione di essere uno dei migliori neurochirurghi nello stato del Texas o almeno questo è quello che diceva lui, a chiunque incontrasse. E le recensioni su di lui online in realtà concordavano. Moltissimi pazienti si rivolgevano al dottor Dunge lamentando ovviamente dolori alla schiena, al collo e anche a quei pazienti per cui apparentemente non c'era nessuna cura, a cui altri dottori avevano detto mi dispiace ma non c'è nulla che io possa fare per alleviare il tuo dolore, dottor Dunge rispondeva sempre la stessa cosa, io posso aggiustarti, io sono il migliore. E la gente puntualmente si fidava di lui quando si va dal dottore, quando ci si deve sottoporre ad un intervento, a meno che non siamo anche noi laureati in medicina insomma, dobbiamo affidarci al nostro dottore, dobbiamo affidarci all'ospedale, al sistema ospedaliero, non sappiamo cosa c'è esattamente dentro le medicine che ci somministrano, non sappiamo esattamente che cosa ci farà in sala operatoria, no? Quindi non possiamo fare altro che fidarci, metterci completamente nelle mani del nostro dottore, chirurgo. E così la gente ha fatto con dottor Dunge, invogliati dalle numerose recensioni positive e anche dal suo modo di essere, dal suo modo di fare, era una di quelle persone che ci sapeva fare con la gente. E inoltre, come avrete già capito, sprizzava sicurezza da tutti i pori. Lui era il migliore chirurgo spinale in circolazione. Al Dallas Medical Center lavora anche il dottor Robert Henderson. Anche lui è un neurochirurgo con un'esperienza alle spalle di più di 40 anni. Il dottore Henderson è un medico molto conosciuto e rispettato all'interno della comunità di medici. Un chirurgo di talento che aveva sempre sognato di fare quel lavoro, addirittura fin da quando aveva 7 anni. E per la maggior parte della sua carriera si era anche lui focalizzato sulla chirurgia vertebrale, come dottor Dunge. Il 26 luglio del 2012, intorno alle 2 del pomeriggio, mentre il dottor Henderson si trovava a casa sua, riceve improvvisamente una telefonata da parte del consiglio di amministrazione dell'ospedale. Dicendogli se per favore poteva recarsi lì immediatamente, in quanto una paziente che si era da poco sottoposta ad un'operazione non si sentiva bene. Qualcosa in quell'operazione forse non aveva funzionato. Dottor Henderson è un po' stupito da quella telefonata. Non era stato lui a eseguire l'operazione in questione, ma qualche altro chirurgo. E non era così strano in realtà che chiamassero lui per correggere l'errore di un altro chirurgo. Come già detto, il dottor Henderson era molto esperto, aveva addirittura inventato alcune delle tecniche che si utilizzano in alcune operazioni ancora oggi. Ma quella telefonata era strana perché non gli era mai capitato di essere contattato direttamente dal consiglio di amministrazione per correggere un'operazione di un altro chirurgo. Quando il dottor Henderson arriva in ospedale, il capo, il direttore dell'ospedale, gli spiega che la paziente in questione si chiama Mary Hefford. Era arrivata in ospedale sulle sue gambe, camminava tranquillamente, ma dopo essersi sottoposta a quell'operazione, non poteva più muoversi. Era rimasta paralizzata e provava dei dolori lancinanti. Dottor Henderson gli chiede quindi chi fosse il chirurgo che aveva effettuato l'operazione. La risposta è il dottor Christopher Dunge. Il dottor Henderson allora decide di guardare tutte le analisi fatte dal dottor Dunge su quella paziente. Le aveva fatto i raggi e aveva scritto passo per passo tutta la procedura, tutto quello che avrebbe dovuto fare durante l'operazione per aggiustare la schiena della signora Mary Hefford. La cosa inquietante, nota il dottor Henderson, è che tutto quello che aveva pianificato il dottor Dunge era corretto. Tutta l'operazione che aveva programmato, che aveva scritto, era corretta. Peccato che al momento di effettuarla fisicamente aveva fatto tutto l'opposto. Non aveva fatto nulla di quello che aveva pianificato. E a quel punto il dottor Henderson scopre che Mary Hefford non era la prima paziente ad essere ridotta in quello stato dopo essere passata dalle mani del dottor Dunge. Infatti, solo il giorno prima, dottor Dunge aveva operato un'altra paziente di nome Floella Brown. E anche lei adesso si trovava in terapia intensiva, addirittura in bilico, tra la vita e la morte. Floella Brown aveva 64 anni, era sposata con suo marito Joe dai tempi del liceo. Floella si era sottoposta ad un'altra operazione qualche anno prima e il chirurgo del tempo le aveva inserito delle placche di titanio nella colonna vertebrale. Ma ora le faceva male il collo. Lei e suo marito Joe stavano per andare tutti e due in pensione e volevano trasferirsi insieme nella loro casa al lago. Quindi Floella voleva sbarazzarsi di quel dolore insopportabile prima di cominciare questo nuovo capitolo della sua vita in modo da potersi finalmente rilassare. Il dottor Dunge avrebbe dovuto rimuovere un disco dalla colonna vertebrale di Floella e unire insieme due vertebre. Il dottor Dunge effettua l'operazione la mattina del 24 luglio del 2012. E per i primi 20 minuti dell'operazione sembrava che le cose stessero andando bene. Ma ad un certo punto il dottor Dunge inizia a lamentarsi dicendo che non riusciva a vedere la colonna vertebrale di Floella perché c'era troppo sangue. Uno degli infermieri ad assistere il dottor Dunge si chiamava Kyle Kissinger. Aveva lavorato con lui solo quel giorno e il giorno prima ma aveva già capito che ci fosse qualcosa in questo chirurgo che non andava. Kyle racconta che durante quell'operazione Floella perdeva tantissimo sangue molto più del normale, così tanto che colava per terra. Kyle spiega che durante le operazioni vicino al lettino c'è sempre una specie di secchio in cui dentro si buttano tutte le garze con cui si tampona e si pulisce il sangue. E di solito queste garze sono solo leggermente sporche, che sono di un colore sul rosa. Ma durante quell'operazione invece il secchio si era velocemente riempito di garze che erano tutte inzuppate e di un colore rosso intenso. Ma finalmente l'operazione termina. E nonostante fosse durata decisamente più del normale, Floella si sveglia nella sua stanza e sembra stare anche bene. Ma quella sera stessa, quando suo marito Joe insieme al loro figlio e al loro nipote vanno a trovarla, Joe nota subito che c'è qualcosa in sua moglie che non va. Sì, sembrava stare bene, ma la vedeva strana, agitata, irrequieta e anche un po' tremolante. Infatti, il mattino dopo, intorno alle 5.30, quando Joe era tornato a trovarla, le sue condizioni erano peggiorate drasticamente. Floella aveva iniziato ad avere le convulsioni e mezz'ora dopo aveva perso i sensi ed era entrata in coma. E il motivo di tutto ciò era che il dottor Dunge aveva perforato e bloccato una delle arterie carotidee nel collo a causa di una vite messa nel posto sbagliato. In tutto ciò, Joe e la sua famiglia, la famiglia di Floella, sono confusi dalla situazione, non capivano che cosa stesse succedendo. Floella si era sottoposta ad un'operazione piuttosto semplice, tutto sommato, che cosa le stava succedendo e perché nessuno glielo sapeva spiegare. Ma soprattutto, dove era finito il suo dottore? Dottor Dunge era scomparso, non rispondeva al telefono, l'ospedale letteralmente non sapeva come rintracciarlo. E quella mattina, alle 7, avrebbe anche dovuto effettuare un'altra operazione sulla paziente Mary Iford, di cui abbiamo parlato prima. Ma del dottor Dunge non c'era neanche l'ombra. Ma finalmente, intorno alle 7.45, si degna di presentarsi in ospedale e non appena arriva, l'infermiere Kyle Kissinger lo prende da parte e lo aggiorna su quello che stava succedendo, sulle condizioni gravissime di Floella Brown. Ma non ottiene nessuna risposta dal dottor Dunge. Anzi, non ottiene proprio nessuna reazione. E in quel momento, l'infermiere nota le condizioni in cui era il dottore. Aveva le occhiaie, era tutto scompigliato, aveva gli occhi sbarrati come se fosse sotto l'effetto di qualcosa. E un'altra cosa che l'infermiere nota è un buco nella sua divisa. Aveva un buco sul di dietro e da quel buco si poteva anche notare che il dottor Dunge non amasse probabilmente indossare la biancheria intima per farvi capire dove si trovasse il buco. Ma la cosa che ha scioccato l'infermiere è che quel buco lo aveva già visto due giorni prima, cioè tutti e due i giorni precedenti. Questo significava che il dottor Dunge indossava la stessa divisa da tre giorni senza cambiarsi. Quella era la divisa con cui entrava in sala operatoria. Avrebbe dovuto cambiarla tutti i giorni, più volte al giorno se fosse stato necessario. Comunque a quel punto tutti si aspettavano che il dottor Dunge rimandasse la sua operazione con Mary Hefford, considerando che le sue condizioni, cioè lui non era proprio in delle buonissime condizioni, ma più che altro considerando le condizioni critiche in cui era la sua paziente. Quindi tutti pensavano che il dottor Dunge avrebbe voluto concentrarsi su di lei o almeno andare a parlare con la sua famiglia. Insomma, essere presente per la sua paziente. Ma invece no, perché mai. È voluto andare direttamente in sala operatoria con Mary Hefford e sappiamo tutti com'è finita, paralizzata. Dottor Anderson, che era stato chiamato per, appunto, rimediare all'operazione di Dunge a Mary Hefford, vuole cercare di capire che cosa fosse successo in sala operatoria. Perché dottor Dunge aveva pianificato per filo e per segno un'operazione da manuale per poi fare tutto diversamente. Chiede all'infermiere Kyle Kissinger di raccontargli che cosa avesse visto in sala operatoria. L'infermiere gli racconta che dottor Dunge era senza dubbio distratto mentre operava sulla signora Hefford. Pensava, in realtà, all'altra paziente, quella che si trovava in terapia intensiva, Floella Brown. Tanto che dopo un'ora di operazione su Mary Hefford, dottor Dunge dice all'infermiere che aveva intenzione di eseguire una craniotomia su Floella Brown. Una craniotomia è una procedura chirurgica nella quale si fa un foro nel cranio per alleviare la pressione sul cervello. L'infermiere però gli risponde subito che non era possibile poiché quell'ospedale non era autorizzato ad effettuare quel tipo di operazioni. Non si facevano craniotomie in quell'ospedale, anzi, non avevano neanche gli strumenti adatti per farle, neanche volendo. Ma Dunge insiste. Gli ricorda che il capo era lui, che Kissinger era solo un'infermiere e quindi non capiva niente. Gli dice che non aveva bisogno di grandi strumenti, avrebbe potuto eseguirla con qualsiasi cosa avesse trovato sotto mano e gli ordina di prenotare una sala operatoria. Ora, da quello che ho capito, la gerarchia in una sala operatoria è molto molto rigida. Gli infermieri devono eseguire gli ordini del chirurgo, a meno che le richieste del chirurgo non mettano palesemente in pericolo il paziente. E quello era infatti uno di quei casi. Quindi l'infermiere esce dalla sala operatoria e va a cercare un superiore. Ne trova due e li porta con sé, di nuovo, in sala. Questi due superiori, anche loro chirurghi ovviamente, gli ribadiscono la stessa cosa che Kissinger gli aveva già detto. Questo ospedale non fa craniotomie. La risposta è no. E a quel punto il dottor Dunge sbatte gli arnesi sul carrellino, si strappa di dosso il camice ed esce dalla sala operatoria. Drama Queen. E in tutto ciò lascia la paziente sul lettino aperta, con la spina dorsale così, al vento. A quel punto il resto del team in sala operatoria tenta di tamponare il sangue, richiudere la paziente, ma c'è un problema. Non riescono a trovare una vite che doveva essere all'interno del corpo della paziente, ma non sapevano dove, non riuscivano a trovarla. Quella vite in teoria doveva essere messa in un punto preciso della colonna vertebrale, ma non era lì. Era da qualche parte, ma non era dove avrebbe dovuto essere. Dottor Dunge ritorna finalmente in sala operatoria dopo 15 minuti e gli infermieri gli comunicano appunto che non riuscivano a trovare quella vite. Al che Dunge risponde di nuovo che non capivano niente e che la vite era esattamente dove doveva essere, nonostante fosse chiaro a tutti che non fosse lì. Doveva essere lì ma non c'era, eppure lui negava l'evidenza, sminuendo anche tutti. Fanno dei raggi e il tecnico radiologo ha dovuto ripeterli una ventina di volte per capacitarsi di quello che stava vedendo in quelle immagini. Praticamente il dottor Dunge avrebbe dovuto appunto fondere insieme due vertebre come abbiamo detto prima e per farlo avrebbe dovuto appunto mettergli delle viti e delle specie di placche di metallo e il tecnico radiologo ad un certo punto dice che dalle immagini aveva visto che tutte quelle viti e quelle placche erano state messe proprio nel posto sbagliato. Al che Dunge gli risponde di nuovo che non doveva neanche permettersi di dire a lui una cosa del genere che sapeva esattamente quello che aveva fatto ma tutti in quella stanza erano in grado di capire che non avesse idea di cosa stava facendo aveva iniziato a mettere le viti e a toglierle a trapanare dei punti sembrava stesse andando a casaccio poi ad un certo punto ha conficcato una vite nell'osso sacro della paziente e basta l'operazione era conclusa. Mary Hefford in tutto ciò aveva perso un terzo del sangue presente nel suo corpo e quando si è svegliata dall'operazione il dolore che provava era insopportabile e quando aveva provato a muovere le sue gambe non c'era riuscita non riusciva più a muoversi ma anche in questo caso di Dr. Dunge non c'era traccia. Ora toccava al Dr. Anderson il compito di sottoporre Mary Hefford a un'altra operazione per tentare di rimediare al macello nel vero senso del termine che aveva combinato il Dr. Dunge durante questa operazione che avviene il giorno dopo Dr. Anderson riapre l'incisione che aveva fatto il Dr. Dunge solo il giorno prima così da poter guardare dentro e capire che cosa avesse fatto decide di registrare tutto perché era sicuro che un errore del genere su un paziente sarebbe sicuramente finito per vie legali e ad un certo punto quindi preferisce registrare quello che vedeva nel corso dell'operazione così sarebbe stato tutto più facile e quello che vede lo lascia interdetto viti messe a caso in modo così precario che tirandole appena venivano via buchi fatti di nuovo a caso nella colonna vertebrale in cui Dr. Dunge aveva provato ad inserire altre viti e una di quelle viti messe a caso aveva infatti reciso una serie di nervi che controllavano i movimenti di una gamba del paziente aveva anche rimosso pezzi di tessuto osseo che non andavano rimossi e la cosa più spaventosa è che Dr. Henderson nota che Dr. Dunge non aveva neanche operato il disco giusto della paziente aveva fatto tutti questi danni e non aveva neanche toccato il disco che avrebbe dovuto toccare l'impressione del Dr. Henderson era che Dr. Dunge sapesse esattamente che cosa fare ma aveva scelto di fare totalmente un'altra cosa non era neanche sicuro a quel punto che si trattasse di semplice incompetenza è come se avessi davanti un'equazione matematica e tu facessi tutti i passaggi correttamente tutti i calcoli giusti ma poi alla fine mettessi solo il risultato sbagliato non ha senso a quel punto Anderson non riesce proprio a capire perché riflette sul fatto che una persona che effettivamente ha studiato chirurgia dopo degli errori del genere ci penserebbe due volte prima di effettuare un'altra operazione dopo aver fatto quel tipo di danni quindi inizia a pensare che questo Dr. Dunge fosse proprio un impostore una roba tipo Frank Abagnale su cui hanno fatto anche il film prova a prendermi un genio delle truffe che era riuscito a spacciarsi per un neurochirurgo ma che in realtà non lo era perché questo era un chirurgo che in soli due giorni aveva paralizzato una paziente e ne aveva quasi uccisa un'altra non era normale inoltre quelli non erano errori che un chirurgo in possesso anche solo di un minimo di esperienza avrebbe mai fatto nel frattempo Fluella Brown la paziente in fin di vita viene trasferita in un altro ospedale ma purtroppo era finita appunto in un coma irreversibile da cui non si sveglierà mai più il Dallas Medical Center a quel punto fortunatamente decide di revocare tutti i permessi i privilegi operativi insomma tutti i permessi per operare quindi Dr. Dunge non avrebbe più potuto operare in quell'ospedale ma purtroppo questo non basterà a fermarlo tra le operazioni che il dottor Dunge ha effettuato non tutte si sono rivelate subito un disastro c'era stata questa paziente Shirley Mock la sua terza paziente al Dallas Medical Center una signora di 71 anni che si era rivolta a lui a causa di un dolore persistente alla gamba che non era migliorato neanche dopo gli antidolorifici che il medico le aveva prescritto il medico dopo un po' le aveva consigliato di sottoporsi ad un'operazione alla schiena che avrebbe risolto il suo problema e le aveva dato il numero di due chirurghi uno dei quali era il dottor Dunge Shirley Mock arrivata a casa aveva telefonato a tutti e due i chirurghi ma il dottor Dunge era stato quello che l'aveva richiamata per primo quindi era stato quello a cui lei si era affidata Shirley e il suo marito Brandon incontrano il dottor Dunge nel suo ufficio e discutono insieme dell'operazione Shirley lo descrive come un uomo di bell'aspetto molto sicuro di sé una persona piacevole con cui parlare e con un curriculum notevole non avevano nessun motivo per non fidarsi di lui era stato consigliato dal loro medico di famiglia sulla carta era un chirurgo eccellente e lui stesso diceva di continuo di essere il miglior neurochirurgo in circolazione l'operazione di Shirley come ho già detto non ha nessuna complicazione anzi libera Shirley dal dolore che la attanagliava ma dopo qualche mese quando torna dal dottor Dunge per una visita di routine post-operatoria lui le fa dei raggi delle analisi e con un'espressione incredula la guarda e le dice ma tu in questi mesi sei caduta? e la signora Shirley gli dice no non sono caduta ma il dottor Dunge insiste sì devi essere caduta dobbiamo operarti di nuovo immediatamente ma come abbiamo visto poco fa il dottor Dunge non poteva più operare al Dallas Medical Center dice quindi ai coniugi Mock che avrebbe operato Shirley in un altro ospedale un ospedale che si trovava però nella zona più povera e malfamata di Dallas un ospedale che non era proprio il massimo infatti quando i coniugi sentono il nome dell'ospedale a cui avrebbero dovuto affidarsi per poco non cadono dalla sedia il signor Mock chiede al dottore perché proprio quell'ospedale quel posto era orribile aveva l'aspetto di un ospedale che avrebbero dovuto dichiarare inagibile vent'anni fa perché Shirley non poteva operarsi lì al Dallas Medical Center al che Dunge risponde che sì magari quell'ospedale non era tanto bello esteticamente ma le persone che ci lavoravano l'amore e la cura che avevano per i loro pazienti quella non l'avrebbero trovata in nessun altro ospedale quindi di nuovo il dottor Dunge mette le mani su una paziente opera di nuovo anche questa volta la paziente perde tantissimo sangue sotto i ferri l'operazione dura invece di due ore sei ore e al suo risveglio Shirley era agonizzante il dolore che provava era più forte di qualsiasi altro dolore avesse provato nella sua vita ed era convinta di stare per morire nel frattempo però il dottore Anderson capisce che deve fare qualcosa per fermare il dottor Dunge inizia quindi a scavare nel suo passato contatta il dottor Kevin Foley che era un membro del corpo docenti dell'università che aveva frequentato Dunge a Memphis in Tennessee era il suo mentore ma il dottor Foley gli risponde che Christopher Dunge durante i suoi anni di studi si era rivelato uno dei più brillanti studenti che avesse mai avuto e non aveva avuto mai nessun problema con lui il dottor Anderson è talmente incredulo e confuso che addirittura gli chiede se poteva inviargli una foto del dottor Dunge di cui stava parlando per confermare che fosse effettivamente la stessa persona ma quando il dottor Foley riceve la foto conferma sì quello era proprio il suo studente Chris Dunge uscito a pieni voti dalla facoltà di medicina e con un dottorato di ricerca ma torniamo un attimo indietro ai tempi dell'università di Chris Dunge e cerchiamo di capire meglio che tipo fosse Chris Dunge come abbiamo già detto era un bel ragazzo molto atletico che viene da Memphis in Tennessee la sua prima scelta però come università non era stata la facoltà di medicina all'inizio si era iscritto alla Millsaps University in Colorado per giocare a football voleva giocare a football in modo professionale questo era il suo obiettivo della vita Cooper Bailey era il suo compagno di stanza al college e descrive Chris Dunge dei tempi come un ragazzo molto intelligente ambizioso motivato uno che se si metteva in testa qualcosa doveva raggiungerlo per forza lo descrive anche come forse un po' svampito erano delle piccole cose ma perdeva sempre tutto perdeva sempre per esempio le chiavi di casa ma proprio ogni singolo giorno impazziva dicendo ho perso le chiavi dove sono le chiavi avete visto le chiavi e poi puntualmente erano sempre appese alla porta di ingresso e questa cosa mi ricorda tanto mio marito quindi non so se devo iniziare a preoccuparmi o cosa racconta inoltre che aveva molto successo con le ragazze piaceva a tutti a tutte era molto bello in ottima forma si allenava costantemente faceva il difensore della squadra di football della scuola un suo compagno di squadra ricorda però dei comportamenti bizzarri da parte di Chris anche lui ricorda quanto fosse ambizioso motivato nel raggiungere i suoi obiettivi ma ricorda appunto che lo fosse in maniera ossessiva doveva riuscire per forza a fare tutto e doveva riuscire a farlo meglio di chiunque altro e questo valeva davvero per qualsiasi cosa con l'alcol doveva riuscire a bere più velocemente e più di tutti o con l'allenamento doveva allenarsi più di tutti e sollevare più pesi di tutti oppure anche con il wrestling è molto comune in america ci sono proprio le squadre di wrestling nelle scuole e Chris era davvero negato nel wrestling non era proprio una cosa che faceva per lui e questo suo amico un giorno racconta che parlando con lui al telefono gliel'aveva detto scherzando gli aveva detto oddio sei un pessimo wrestler ma a quel punto Chris gli aveva staccato il telefono in faccia era salito in macchina e aveva guidato fino a casa sua gli aveva bussato la porta e gli aveva detto ok lottiamo ti faccio vedere che sono il wrestler più bravo che ci sia e il suo amico era basito gli aveva detto ma sei serio io stavo scherzando hai veramente guidato fino qua per dimostrarmi che sai lottare ma Chris insisteva faceva sul serio quindi ok si sono messi a lottare e Chris era un pessimo wrestler continuava a perdere ma si rialzava subito e diceva no ok riproviamo e no sono scivolato no ho sbagliato adesso ho capito cosa devo fare riproviamo 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 e dopo l'ennesima sconfitta a questo punto il suo amico e i fratelli di questo suo amico avevano iniziato a prenderlo un po' in giro a dirgli basta Chris accettalo sei un pessimo wrestler Chris a quel punto sale in macchina e se ne va tipo offeso ma dopo dieci minuti torna alla porta del suo amico gli bussa di nuovo e gli chiede di nuovo per favore riproviamo ho capito forse dove ho sbagliato ho capito riproviamo ti prego devo devo vincere aiuto e questo atteggiamento lo aveva anche nel football e la verità amici è che Chris era negato anche a giocare a football e una persona normale dico normale tra virgolette accetta le sconfitte ad un certo punto non che sia una sconfitta nel senso siamo tutti diversi e alcuni di noi sono bravi in qualcosa alcuni sono bravi in altre cose e se c'è qualcosa che proprio non fa per noi e ci rendiamo conto che niente siamo negati solitamente lasciamo perdere e ci concentriamo di più su qualcosa che fa più per noi ma Chris no non poteva proprio accettare la sconfitta e si fissava con quella cosa e ci riprovava in modo appunto quasi ossessivo finché non ci riusciva e nel frattempo però mentiva a se stesso e agli altri dicendo che lui in quella cosa era il migliore solo che qualcun altro lo aveva fatto sbagliare oppure era scivolato oppure aveva sempre una scusa insomma questo suo compagno di squadra ricorda un episodio in cui erano sul campo da football e dovevano fare qualcosa sul campo non so non ne capisco niente di football quindi non proverò neanche a spiegarvelo ma dovevano fare un esercizio e questo suo amico ricorda che Chris proprio non ci riusciva e aveva passato tantissimo tempo così a provare e riprovare e non ci riusciva e poi ci riprovava e a un certo punto tutti gli altri compagni di squadra avevano iniziato a dirgli amico basta non è per te lascia perdere ma lui ormai era impuntato e diceva al coach no me lo faccia fare di nuovo posso farcela e anche dopo l'allenamento aveva costretto il coach a rimanere lì finché non sarebbe riuscito a fare quell'esercizio e tutti gli avevano detto Chris ma abbiamo allenamento di nuovo domani lascia perdere oggi riposati e domani ci riprovi ma lui non poteva doveva riuscirci e doveva riuscirci subito nel 1991 Chris decide di trasferirsi più vicino a casa quindi dal Colorado torna in Tennessee in un'altra università ma a quel punto non era più idoneo a giocare a football per ottenere una borsa di studi e farlo a livello professionale anche perché era negato obiettivamente quindi meglio così quindi decide di cambiare tutto voleva diventare un medico adesso quando torna nella sua città natale si riunisce ad un suo vecchio amico un carissimo amico che aveva conosciuto ai tempi del liceo sul campo da football Jerry Summers e da quando si ritrovano diventano inseparabili Jerry è il classico giocatore di football era grande e grosso alto un metro e novantatré con una vociona molto profonda ma un grande cuore Jerry è una brava persona un ottimo amico fedele generoso avrebbe fatto di tutto per le persone che amava voleva un mondo di bene a Chris è sempre stato molto protettivo nei suoi confronti da sempre e da come ne ha sempre parlato si può davvero percepire quanto fosse fiero di lui fiero del suo amico diceva sempre a tutti quanto Chris fosse la persona più intelligente che conoscesse Chris inizia a studiare medicina e si dedica a quello giorno e notte era il suo nuovo obiettivo della vita quello su cui si era fissato questa volta diceva che sarebbe diventato il miglior neurochirurgo del mondo e i suoi amici infatti dicevano sì certo come voleva diventare il miglior giocatore di football del mondo o il miglior wrestler era proprio da Chris comportarsi così ma Chris in realtà ha un incredibile successo a scuola è brillante lavora e studia come un matto e inizia anche a fare delle ricerche sulle cellule staminali le cellule staminali sono cellule che hanno la proprietà di autorinnovarsi e trasformarsi in altre cellule vengono infatti usate per curare alcuni tipi di cancro ma Chris aveva un'idea voleva usare le cellule staminali per curare il mal di schiena le cellule staminali avrebbero potuto rigenerare i dischi difettosi della colonna vertebrale in questo modo non ci sarebbe più stato bisogno di sottoporsi ad operazioni chirurgiche Chris Dunge voleva fare la storia voleva rendere le operazioni obsolete inizia quindi a fare ricerca insieme ad altri suoi compagni di studi e trova anche degli investitori che gli forniscano i soldi necessari per poter aprire la sua compagnia Discgenics e uno degli investitori che decide appunto di investire in questo progetto era uno degli insegnanti e mentori di Chris il dottor Kevin Foley vi ricordate lo stesso Kevin Foley che il nostro dottor Henderson aveva contattato per sapere se dottor Dunge fosse un chirurgo o un truffatore a cui aveva anche inviato la sua foto per essere sicuro che fosse lui ma i suoi compagni i suoi business partner capiscono molto in fretta che Chris Dunge non era una persona di cui ci si poteva affidare anzi tutt'altro era palese che avesse iniziato a fare uso di sostanze e di alcol già dalla mattina presto ci sono state infatti occasioni in cui Chris si divertiva alle feste facendo uso di tutte queste cose per tutta la notte e poi il giorno dopo andava a lavoro il giorno dopo come se nulla fosse andava a lavoro peccato che il suo lavoro era operare sulla gente ma la verità era che Chris passava più tempo in laboratorio a fare ricerca che in sala operatoria a imparare come si operava e a fare esperienza un normale chirurgo durante la sua formazione esegue in media circa 2500 operazioni pare che Chris ne abbia invece eseguite durante la sua formazione meno di un centinaio ma ad un certo punto gli investitori di Disgenix ne avevano abbastanza del suo comportamento e non solo lo sbattono fuori dalla compagnia ma lo denunciano anche e gli chiedono un grosso risarcimento monetario soldi che però Chris non ha e qualcuno decide anche di fare una telefonata anonima riferendo la cosa che Chris faceva uso di un sacco di robette soprattutto prima di entrare in sala operatoria gli ordinano quindi di fare un test ma Chris sparisce per giorni e viene anche mandato ad un programma di recupero per medici con questo tipo di dipendenze ma per qualche motivo tutte queste informazioni non verranno mai date a tutti gli ospedali che assumeranno Dunge in futuro queste sono proprio il tipo di informazioni che un datore di lavoro vorrebbe sapere soprattutto quando stai assumendo un neurochirurgo invece ogni volta che in futuro un ospedale aveva chiesto delle referenze gli venivano solo comunicate le grandi dote di Christopher Dunge o il fatto che fosse un gran lavoratore a quel punto ormai Chris era entrato del tutto in quel suo nuovo personaggio fino a qualche tempo prima era un giocatore di football adesso era un dottore il dottor Chris Dunge e parlerà di se stesso in quel modo e basta quando si presentava alle persone non diceva piacere Christopher Dunge no diceva dottor Christopher Dunge MD PhD MD significa che sei laureato in medicina che sei un dottore e il PhD è il dottorato di ricerca aveva bisogno di un titolo di essere qualcosa non gli bastava essere Chris Dunge lui doveva essere qualcosa doveva essere quel qualcosa meglio di tutti e a questo proposito amici voglio solo aprire una piccola parentesi perché facendo tutte queste ricerche su questo personaggio ho trovato la sua pagina facebook che è ancora attiva e se scorrete sul suo profilo lui parla di sé così davvero cioè nel senso vi metto l'immagine sullo schermo questo è il modo in cui si definisce Christopher Dunge MD PhD presidente della bla 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 fondatore presidente direttore professore guardate quanto è lunga la lista di titoli di cui ha bisogno e questo è il suo profilo privato non è una candidatura a qualche lavoro non è linkedin comunque proseguiamo come già detto Chris Dunge e Jerry Summers erano ormai inseparabili e diciamo che Jerry si prendeva cura di lui anche Jerry sapeva quanto il suo amico fosse un po' svampito a volte si perdeva in un bicchiere d'acqua letteralmente si perdeva spesso in giro per la città e Jerry doveva sempre andarlo a recuperare aveva anche spesso piccoli incidenti con la sua macchina e di nuovo Jerry era quello che doveva andarlo a riprendere era un po' il suo babysitter ma appena finita la sua formazione alla facoltà di medicina un ospedale di Dallas aveva subito voluto lavorare con lui il Baylor pleno e quando chiamano uno degli insegnanti di Chris chiedendo di nuovo referenze se fosse così brillante come diceva il suo curriculum che era lungo ben 12 pagine la risposta di nuovo è stata Chris è una delle persone più brillanti che io abbia mai incontrato e quando gli è stato chiesto quali fossero i difetti di Chris i suoi lati deboli ne abbiamo tutti almeno uno lui aveva risposto l'unico difetto di Chris e che riesce a fare troppe cose insieme quindi l'ospedale il Baylor pleno offre a Chris 600.000 dollari di anticipo e una suite in un hotel di lusso per farlo andare al più presto a lavorare da loro come neurochirurgo e piccola parentesi il motivo per cui gli ospedali sono così tanto interessati ai neurochirurghi e che portano un sacco di soldi per ogni operazione che un neurochirurgo fa l'ospedale guadagna non so dirvi quanti mila milioni non lo so di dollari quindi questo è il motivo comunque Chris decide quindi di trasferirsi ovviamente ad Dallas di accettare quel lavoro e anche di aprire la sua clinica e decide di farlo insieme al suo amico jerry aveva bisogno di lui ovviamente e quindi lo assume per aiutarlo in quel periodo chris stava insieme e conviveva con una ragazza di nome wendy young che era rimasta anche incinta di lui del loro primo figlio e in futuro avranno anche un secondo figlio e invece jerry l'amico di chris era fidanzato con una ragazza di nome jennifer quindi sia wendy sia jennifer si trasferiscono insieme a loro a Dallas e tutti insieme si mettono a lavorare a mettere in piedi questa clinica assumono un marketing manager che fa in modo che il nome del dottor dunch si diffonda il più possibile in modo anche che tutti i dottori della zona lo consiglino a tutti i pazienti che necessitavano un'operazione alla schiena nel 2011 il dottor dunch viene menzionato addirittura in diverse riviste mediche e giravano anche voci che volessero addirittura a mettere la sua faccia su dei cartelloni pubblicitari la fama del dottor dunch cresceva erano tutti felici finché un giorno jerry l'amico di chris telefona alla sua fidanzata jennifer e le dice lo sai mi farò operare da chris e jennifer gli dice operare a cosa e jerry le spiega che molti anni prima si era infortunato sul campo da football e si era fatto male al collo e qualche anno dopo aveva avuto un piccolo incidente in auto che aveva peggiorato quella ferita lasciandogli un costante dolore al collo le spiega che chris gli avrebbe aggiustato il collo e lo avrebbe finalmente liberato da quel dolore jennifer era un po' preoccupata gli chiede se fosse sicuro della cosa e lui risponde certo che sono sicuro chris è il miglior chirurgo che ci sia allora jennifer qualche giorno dopo il giorno dell'operazione accompagna jerry all'ospedale i due si baciano jerry le dice ci vediamo tra un paio di ore ma dopo un paio di ore i genitori di jerry telefonano a jennifer chiedendole dove sei devi venire di corsa all'ospedale perché qualcosa non va jerry si trova in terapia intensiva a quanto pare jerry al suo risveglio sentiva a mala pena il suo corpo non riusciva più a muoversi dal collo in giù jennifer allora va a cercare il dottor dunce che le dice che era tutto normale jerry aveva solo perso molto sangue durante l'operazione ma si sarebbe ripreso nel giro di qualche giorno ma invece quella notte intorno a mezzanotte chris effettua una seconda operazione sul suo amico jerry dicendo che doveva alleviare la pressione che c'era sulla sua colonna vertebrale e questo era corretto c'era molta pressione sulla colonna vertebrale di jerry perché durante la prima operazione dunch aveva danneggiato dei vasi sanguigni e per rimediare alla cosa nella seconda operazione aveva riempito tutto di gel foam che sono delle specie di spugnette assorbenti che si usano per fermare il sangue ma dunch ne usa così tante da stritolare la colonna vertebrale di jerry e rimuove anche così tanto tessuto osseo che la testa di jerry era ormai praticamente solo appena attaccata alla spina dorsale l'aveva praticamente decapitato il risultato è che al termine della seconda operazione jerry si sveglia completamente paralizzato dal collo in giù perché dopo la prima operazione riusciva a muoversi a malapena aveva almeno un minimo di sensibilità e comunque era già qualcosa invece dopo la seconda operazione aveva perso completamente ogni tipo di sensibilità ed era rimasto tetraplegico ma di nuovo chris dice ai genitori di jerry che in una settimana sarebbe stato molto meglio quella situazione era solo temporanea ma jerry sapeva che ci fosse qualcosa che non andava non era normale non riuscirsi a muovere in quel modo ma chiaramente il tuo migliore amico che è anche un chirurgo che ti dice di essere il miglior chirurgo del mondo ti dice che starai meglio io penso che in quella situazione tu cerchi di convincerti che è la verità che starai meglio ma i giorni passavano e chris non si era neanche mai degnato di andare dal suo amico a dirgli la verità non gli aveva detto nulla l'aveva lasciato paralizzato in quel modo e non si era più fatto vedere jerry provava a chiedere informazioni alle infermiere che ovviamente non potevano dirgli nulla e di conseguenza jerry passa dall'essere arrabbiato all'essere depresso e inizia anche a chiedere alla sua fidanzata jennifer di ucciderlo ma un giorno perde la pazienza inizia ad urlare a dire davanti ad alcune infermiere che la notte prima dell'intervento lui e il dottor chris dunch avevano fatto uso di sostanze e avevano fatto anche delle orce il dottor dunch finirà diciamo nei guai per questo o meglio gli verrà chiesto di fare un test che però andrà di nuovo a fare parecchi giorni dopo dopo essersi inventato mille scuse tipo ah no mi sono perso non ho trovato il posto addirittura una delle scuse è stata alle 4 e 30 del pomeriggio ha detto no il posto è chiuso infine aveva fatto questo test che però era risultato all'inizio inconcludente e questo perché chris dunch lo aveva riempito di acqua del rubinetto e dopo altri giorni era finalmente risultato negativo pulito insomma come si dice ma appunto era passato del tempo di conseguenza alcune sostanze non sono già più presenti dopo dopo giorni quindi vabbè purtroppo però Jerry Summers finirà per rimangiarsi quelle parole dicendo che si era inventato tutto voleva solo attirare l'attenzione del suo amico perché sapeva che gli stesse nascondendo qualcosa e aveva bisogno di risposte aveva bisogno di sapere se sarebbe davvero stato meglio o se sarebbe rimasto paralizzato per tutta la vita e a quel punto finalmente Jerry e la sua famiglia vengono informati del fatto che si sarebbe rimasto per sempre su una sedia a rotelle e avrebbe avuto bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lui 24 ore al giorno per il resto della sua vita in quello stesso periodo per qualche motivo la fidanzata di Jerry ha una discussione con i genitori di Jerry che le proibiscono di andarlo a trovare in ospedale o di avere a che fare con lui in generale ma il motivo non si sa fatto sa che Jennifer è costretta a tornare a casa sua in Tennessee col cuore completamente spezzato i genitori di Jerry tornano a casa a Memphis insieme a lui e dopo cinque mesi però telefonano a Jennifer chiedendole scusa e dicendole che Jerry aveva bisogno di lei non se la stava passando per niente bene e le chiedono se potesse andare da loro a trovarlo quando Jennifer arriva a casa loro rimane davvero sconvolta nel vedere come si fosse ridotto Jerry era caduto in una profonda depressione non mangiava più infatti era diventato pelle e ossa era davvero irriconoscibile Jennifer decide di prendersi cura di lui a tempo pieno per tutto l'anno successivo in modo che Jerry non dovesse vivere in una clinica ma il loro rapporto purtroppo diventa un rapporto tossico e questo perché Jerry era arrabbiato era costantemente arrabbiato per quello che gli era successo e purtroppo non riusciva a fare altro che riversare tutta la sua rabbia sull'unica persona che in realtà lo amava davvero Jennifer era diventato sempre più cattivo e crudele con lei le faceva anche del male andandole addosso con la sua sedia a rotelle automatica e Jennifer racconta di avere ancora oggi le cicatrici addosso e di conseguenza ad un certo punto ha dovuto fare la scelta difficile di allontanarsi da lui i due infatti non si sono mai più parlati e se vi state chiedendo ma il suo grande amico il dottor Chris Dunge è mai andato a trovarlo dopo averlo ridotto in quello stato gli ha mai chiesto scusa gli ha mai detto mi dispiace a quanto pare l'unica volta in cui Chris è andato a trovare Jerry è stato tre anni dopo l'operazione e no non gli ha mai chiesto scusa nel 2011 il dottor Dunge ha la sua clinica ha diversi permessi per poter operare in diversi ospedali nella città tra cui il Baylor Pleno a quel punto aveva solo bisogno di un assistente personale assume un'infermiera bella e di talento di nome Kimberly Morgan una donna molto forte intelligente brillante quando un dottore suo amico la chiama dicendole che c'era un neurochirurgo a Dallas che stava cercando un assistente lei si trovava in vacanza al mare ma decide di prendere immediatamente un aereo e si presenta al colloquio vestita ancora con la canotta e pantaloncini e ancora con la valigia in mano arrivata direttamente dall'aeroporto il dottor Dunge e Kimberly fanno il colloquio chiacchierano e lei è immediatamente attratta da lui e viceversa ma a quel punto la fidanzata di Chris Wendy non solo era incinta ma lavorava anche nella clinica come segretaria ma Chris omette questo piccolo dettaglio le dice invece di essere single e quando le presenta tutti i suoi impiegati dice che Wendy era solo la sua segretaria e che suo marito viveva anche lui a Dallas che signore ovviamente non lo dice di fronte a Wendy fa in modo che le due si incontrino anche il meno possibile Chris assume Kimberly e dopo neanche un mese i due iniziano ad avere una relazione uno dei dottori del Baylor Pleno l'ospedale in cui operava dottor Dunge in quel periodo era il dottor Randall Kirby un veterano della chirurgia vascolare che aveva permessi per operare praticamente in tutti gli ospedali della città e anche lui dopo poco inizia a notare strani comportamenti da parte di questo dottor Dunge il dottor Kirby racconta che quando lui e il dottor Dancio si erano conosciuti Dancio aveva iniziato a parlare ininterrottamente di se stesso come se si stesse autopromuovendo e aveva anche questo brutto vizio di non fare domande non gli interessava chi avesse davanti né chi fosse né cosa facesse gli piaceva parlare solo di se stesso e cercava di convincere tutti sempre della stessa cosa di essere il miglior chirurgo della città persino con il dottor Kirby che era appunto un veterano il dottor Kirby non sapeva bene il perché ma questo dottor Dunge proprio non gli piaceva e alla prima occasione in cui il dottor Kirby ha l'onore di operare insieme a lui nella stessa sala operatoria capisce il perché quel dottore non gli piacesse era un pallone gonfiato ed era anche un incompetente l'operazione in questione era sul paziente Barry Morgeloff Barry lavorava in un'impresa di pulizie per piscine e soffriva di male alla schiena si era già sottoposto ad un'operazione molti anni prima che aveva funzionato l'aveva liberato dal dolore ma dopo alcuni anni il dolore era tornato e come tutti aveva ricevuto dal dottor Dunge quella risposta che lo aveva riempito di speranza io posso aggiustarti il dottor Dunge era stato consigliato a Barry dal suo dottore di famiglia quindi come tutti si era fidato inoltre aveva anche cercato su internet per trovare delle recensioni e tutti ne parlavano così bene vi ricordate poco fa vi ho detto che ho spiato la pagina Facebook di Chris Dunge ecco esiste anche la pagina Facebook della sua clinica medica c'è una foto di una sala operatoria e il primo commento sotto quella foto è proprio di Barry Morguloff e in questo commento scrive dottor Dunge è quello il tavolo su cui finalmente mi aggiusterai la schiena ed è davvero triste leggere questo commento sapendo che cosa succederà dopo a questo povero uomo durante questa operazione il dottor Kirby aveva assistito diciamo al dottor Dunge come chirurgo vascolare e si era reso conto all'ultimo anche di conoscere il paziente Barry infatti aveva pulito la piscina del dottor Kirby qualche tempo prima mentre il dottor Dunge e il dottor Kirby si preparavano per operare Dunge dice a Kirby che tutte le operazioni alla colonna vertebrale fatte in quella città dagli altri chirurghi erano sbagliate erano tutte sbagliate e lui avrebbe migliorato il sistema lui sarebbe quello che avrebbe ripulito la città di tutti quei chirurghi incompetenti ora questa operazione è esattamente la stessa che abbiamo visto all'inizio la procedura è la stessa credo che sia l'operazione più comune alla schiena insomma il dottor Dunge avrebbe dovuto togliere un disco e unire due vertebre insieme usando viti placche di metallo ok questa come ho detto per un chirurgo specializzato nella colonna vertebrale è una delle operazioni più semplici in assoluto perché appunto è la più comune il dottor Kirby però nota che il dottor Dunge inizia a fare delle cose assurde già da subito avrebbe dovuto rimuovere il disco usando il bisturi invece afferra uno strumento che non c'entrava niente infatti con quello strumento inizia a fare un sacco di danni e il paziente inizia a sanguinare tantissimo il dottor Kirby è confuso ma si offre di fare l'operazione al posto suo ma Dunge risponde no non ho bisogno di te ho fatto questa operazione migliaia di volte anzi te ne puoi anche andare a quel punto il dottor Kirby esce dalla sala operatoria e riferisce la cosa al responsabile ma ormai era troppo tardi dopo l'operazione Barry Morgaloff si sveglia anche lui in preda ad un dolore lancinante che non passava neanche con gli antidolorifici e inoltre aveva perso completamente l'uso della gamba sinistra subito dopo Barry il dottor Dunge aveva operato un'altra signora Kelly Martin che era addirittura morta sotto i ferri oltre Barry Kelly Martin e gli altri pazienti nominati finora il dottor Dunge ha mutilato causato irreversibili danni e addirittura ucciso moltissime altre persone ma di nuovo proprio come quando non riusciva a fare quell'esercizio di football o la lotta di wrestling Dunge si rialzava e riprovava ancora e ancora e ancora senza fermarsi mai vi starete chiedendo come cavolo sia possibile che questo macellaio potesse continuare a mettere piede in sala operatoria senza che nessuno riuscisse a fermarlo e la triste verità è che è molto complicato impedire ad un chirurgo di operare in generale cioè di non farlo operare mai più perché richiede avvocati cause lunghissime e tanti tanti soldi può impedirgli di operare in quell'ospedale ma chiaramente in questo caso soprattutto non è abbastanza tristemente la cosa più facile per un ospedale è lasciare che questo dottore se ne vada in modo spontaneo e lasciare che scompaia ma in quel modo non rimane mai traccia di quello che quel dottore ha fatto e tutto questo per evitare una causa e in questo modo il dottore di turno poteva continuare a cambiare ospedale o anche cambiare città cambiare stato e continuare ad operare e questo è esattamente quello che il Baylor Plano Hospital ha fatto con Dunge lo ha lasciato andare e per non creare casini ha fatto sembrare come se la dipartita di Dunge fosse una sua idea non lo ha né segnalato all'ordine dei medici né al National Practitioner Data Bank che sarebbe una lista di tutte le informazioni riguardo i peggiori dottori in America fondamentalmente non so se ne abbiamo una anche in Italia fatemelo sapere è una lista che esiste dagli anni 80 e lì sopra sono riportate tutte le segnalazioni anche i licenziamenti tutti i rapporti gli errori di tutti i medici d'America e il motivo dell'esistenza di questa lista è proprio per evitare che i dottori pessimi come il dottor Dunge saltellino di ospedale in ospedale facendo un danno dopo l'altro è responsabilità dell'ospedale di turno segnalare un dottore incapace o pericoloso sia all'ordine dei medici sia a questa lista qui in modo che l'ospedale successivo veda queste segnalazioni e ci pensi due volte prima di assumerlo se solo il bail or pleno avesse fatto queste due segnalazioni o anche solo l'avesse licenziato tantissime persone oggi si sarebbero salvate se avessero riportato su quella lista i danni che Danci aveva fatto lì da loro è probabile che nessun ospedale in assoluto l'avrebbe più assunto invece non avendolo fatto il dottor Danci è riuscito ancora a operare al Dallas Medical Center e in molti altri ospedali ma perché non lo hanno fatto? vi starete chiedendo perché non lo hanno licenziato perché non lo hanno segnalato? da quello che ho capito non lo hanno fatto perché fondamentalmente i dottori sono umani e gli umani sbagliano molte operazioni non vanno come previsto ci sono degli imprevisti si fanno errori ed è molto molto difficile dimostrare che un chirurgo ha fatto apposta quell'errore perché il chirurgo di turno potrebbe dire non è vero non l'ho fatto apposta è un'accusa infondata anzi a causa tua non riesco più a trovare un lavoro io potrei guadagnare milioni di dollari invece per colpa tua no quindi il dottore potrebbe denunciare l'ospedale che lo ha segnalato e chiedergli un risarcimento per tutti i soldi che gli ha fatto perdere e il che è assurdo voglio dire il dottor Dunge non ha sbagliato un'operazione ma a quanto pare gli ospedali hanno talmente paura di essere denunciati e c'è davvero questa cultura del non dire niente non fare casini lasciare perdere che appunto spesso gli ospedali lasciano perdere lasciano correre terribile e spaventoso comunque ad un certo punto l'assistente barra amante di Dunge Kimberly Morgan finalmente aveva iniziato a vederlo per quello che era una persona orribile pericolosa e aveva finalmente deciso di lasciarlo ma Dunge ovviamente come potete immaginare non l'aveva presa affatto bene aveva iniziato a chiamarla di continuo e una notte addirittura intorno alle due si era anche presentato a casa sua e aveva iniziato a prendere a pugni la porta di casa così lei aveva fatto emanare un'ordinanza restrittiva contro di lui di conseguenza un giorno Christopher Dunge decide di mandarle una mail ora Dunge tra le cose faceva anche il poeta se andrete a vedere la sua pagina facebook leggerete queste poesie comunque Dunge era solito mandare questo tipo di mail a Kimberly erano mail confuse sembravano quasi deliranti alcune ma gliene manda una in particolare che fa davvero venire i brividi soprattutto considerando quello che Dunge faceva ai suoi pazienti in sala operatoria in questa mail Dunge scriveva devi capire che io sto costruendo un impero e tutte le persone intorno a me pensano che io sia un incrocio tra un dio Einstein e l'anticristo perché come te lo spieghi che io riesca ad ignorare ogni regola e riesca a fare tutto quello che voglio come se questo fosse il mio parco giochi senza perdere mai ma purtroppo nonostante io stia vincendo non sto vincendo abbastanza in fretta quindi qual è il problema Kim? Il problema è che tutti quelli intorno a me sono semplici umani e non c'è niente che io possa farci ma sono pronto a lasciar perdere l'amore la gentilezza la bontà e la pazienza che mischio nella mia personalità e sono pronto a diventare un assassino a sangue freddo Wow ma poi succede una cosa davvero assurda dunque a questo punto siamo tornati praticamente all'inizio del video ok? vi ho fatto un po' rimbalzare avanti e indietro nella vita di questo dottor Dunge ma torniamo a luglio del 2012 Dunge ha già fatto tutte queste operazioni disastrose ha già paralizzato tantissime persone il dottor Henderson ha iniziato ad indagare su Dunge ma non solo lui perché anche il dottor Kirby ha iniziato a indagare su di lui vi ricordate il chirurgo vascolare dell'ospedale Baylor Pleno questi due dottori un giorno Henderson e Kirby si ritrovano per caso a lavorare nello stesso ospedale e Henderson aveva appena effettuato quell'operazione su Mary Eiffel tentando di rimediare ai danni del dottor Dunge l'operazione con cui abbiamo iniziato il video chiaramente le voci girano in fretta quindi il dottor Kirby va subito da Henderson a parlargli decidono quindi insieme di contattare l'ordine dei medici del Texas che però non fa granché dicendo che non aveva abbastanza materiale per poter agire dopo tutto quello che questo pazzo sclerato aveva fatto non avevano abbastanza materiale per agire passano i mesi e nessuno ha più notizie di dottor Dunge quindi i due dottori pensano si illudono che boh avesse rinunciato ad operare chi lo sa che cosa gli fosse successo ma purtroppo un giorno il dottor Kirby viene chiamato d'urgenza in uno degli ospedali in cui operava perché un paziente aveva riportato dei danni gravissimi in seguito ad un'operazione alla spina dorsale il suo nome era Jacqueline Troy e l'incisione della sua operazione era gravemente infetta le sue corde vocali erano state recise e aveva un buco nella trachea il dottor Kirby chiede immediatamente chi fosse il chirurgo ad aver eseguito quell'operazione e la risposta la diciamo tutti in coro il dottor Christopher Dunge questa paziente è fortunatamente sopravvissuta ma la sua voce non gli è mai tornata come prima praticamente riesce solo a bisbigliare appena perché le sue corde vocali non si sono mai riprese di nuovo per mesi non succede nulla il dottor Kirby e il dottor Anderson provano a sollecitare più volte l'ordine dei medici ma senza nessun risultato e poi sei mesi dopo il dottor Kirby viene invitato ad una festa di benvenuto per un nuovo chirurgo spinale appena assunto da un ospedale che non era proprio il top ma comunque aveva assunto il dottor Christopher Dunge nuovo assunto yeah che culo il dottor Kirby non va alla festa ma contatta subito il proprietario dell'ospedale che conosceva per avvisarlo di chi avesse appena assunto e riceve una risposta prevedibile risponde guarda non ci sono segnalazioni su di lui non so che dirti il suo curriculum è super lo abbiamo assunto ormai non posso licenziarlo perché sennò questo ci fa causa ma dopo due settimane il 13 giugno del 2013 il proprietario di quell'ospedale lo richiama e gli dice dottor Kirby per favore vieni qui abbiamo un problema con un paziente che ha operato il dottor Dunge e tu sei l'unico che può risolverlo il paziente si chiamava Jeff Glidewell era un uomo che a seguito di un incidente in moto molti anni prima aveva sviluppato dei dolori e dei problemi al collo aveva un'assicurazione molto scarsa e purtroppo il dottor Dunge era l'unico che poteva permettersi purtroppo in America funziona così se non hai una buona assicurazione sei fregato aveva anche lui guardato su internet buone recensioni solita storia tra l'altro ok ultimo aneddoto sulla pagina facebook di questo pazzo narcisista sulla pagina facebook della sua clinica tra le sue recensioni che ovviamente ora sono piene di gente che lo insulta ma nelle vecchie recensioni ce n'è una del dottor Dunge stesso cioè si è lasciato una recensione da solo quando l'ho letta mi sono ribaltata c'è scritto Christopher Dunge consiglia Christopher Dunge avevo un male molto intenso alla schiena ora mi sento dieci volte meglio rispetto a sei mesi fa consiglio a tutti di andare da lui per il mal di schiena mi ha spiegato nei dettagli le mie condizioni in modo molto chiaro continuerò a consigliarlo alla mia famiglia e ai miei amici io morta vabbè comunque scusate continuiamo quando il proprietario dell'ospedale chiama il dottor Kirby gli dice che il paziente Jeff Glidewell aveva qualcosa all'interno del collo aveva un corpo estraneo quindi quando il dottor Kirby inizia l'operazione vede che Dunge aveva sbagliato tutto aveva fatto addirittura l'incisione nel posto sbagliato aveva distrutto l'esofago del paziente e poi aveva trapanato due grossi buchi nel collo del paziente e nel farlo aveva reciso un'arteria e di conseguenza il paziente aveva iniziato a sanguinare moltissimo e per fermare il sangue il dottor Dunge aveva ficcato una garza lì to fatto aveva ricucito tutto lasciando la garza all'interno e poi come al solito era sparito il dottor Kirby a quel punto era nero decide che tutto ciò andava oltre l'ordine dei medici quello era stato un tentato omicidio decide quindi di chiamare il dottor Anderson e di andare insieme alla polizia a quel punto la notizia aveva iniziato a girare ed erano stati scritti alcuni articoli in cui si dava a Dunge il soprannome di dottor Death ovvero dottor morte a gennaio del 2013 il dottor Kirby decide di sollecitare per l'ennesima volta l'ordine dei medici per fare in modo che almeno sospendessero la licenza medica a Dunge in modo da fermarlo anche solo temporaneamente gli scrive quindi una lettera molto schietta dicendogli che il dottor Dunge era un sociopatico e che era un chiaro pericolo per tutti i cittadini del Texas una lettera così dura che non hanno potuto ignorare praticamente gli stava dicendo questa persona è un serial killer con questa lettera ve lo sto dicendo se non farete niente sarà sulla vostra coscienza e infatti finalmente il 26 giugno del 2013 viene sospesa la licenza medica del dottor morte ma per Kirby e Anderson ovviamente quello non era abbastanza sospesa significava che prima o poi sarebbe rientrata in vigore e avevano comunque paura che il dottor morte avrebbe cambiato stato e avrebbe ottenuto la licenza in un altro stato o in un altro paese il mondo è grande ed erano convinti che non si sarebbe fermato davanti a nulla non l'aveva mai fatto prima iniziano quindi a fare pressione sul procuratore distrettuale che gli assicura che avrebbe fatto di tutto per occuparsi del caso lo avrebbe messo in cima alle sue priorità purtroppo però non è proprio così e passa invece molto tempo prima che qualcuno agisca nel frattempo il dottor morte non poteva più praticare medicina finalmente quindi si trasferisce a Denver in Colorado a casa dei suoi genitori e dichiara bancarotta perché a quel punto aveva debiti per più di un milione di dollari nel frattempo se vi state chiedendo ma la sua fidanzata che fine ha fatto la madre dei suoi figli i due ad un certo punto si lasciano anche se non è ben chiaro quando quindi Dunge andava ogni tanto in Texas a trovare i suoi figli ogni tanto a fare casino perché più volte Wendy aveva chiamato la polizia denunciando che Dunge la picchiasse o si presentasse a casa sua ubriaco nel mezzo della notte Dunge inizia anche a rubare frequentemente in vari supermercati guida spesso ubriaco finisce anche in una rissa con il nuovo fidanzato di Wendy una rissa finita male sicuramente per lui perché ci ricordiamo tutti quanto fosse scarso nella lotta e nel marzo del 2015 la polizia viene chiamata da alcuni passanti che segnalavano un uomo che era Chris Dunge ovviamente che bussava ferocemente alle porte di una banca ed era completamente pieno di sangue le mani la faccia e urlava dicendo che la sua famiglia fosse in pericolo ma la polizia gli aveva solo fatto fare un veloce consulto con uno psichiatra e basta non ho trovato altre informazioni su questa cosa perché Dunge stava urlando quelle cose e perché era pieno di sangue non si sa ma probabilmente era solo sotto l'effetto di qualcosa non lo so non ho trovato nulla a maggio del 2015 viene arrestato perché aveva rubato in un supermercato walmart un totale di 800 dollari di merce ma cose futili tipo profumi occhiali da sole orologi vestiti alcol vengono scritti altri articoli uno dopo l'altro con titoli come chirurgo psicopatico arrestato per taccheggio e però sotto questi articoli online Chris Dunge stesso commentava scrivendo non è vero è tutto un complotto contro di me gomblotto finalmente nell'ufficio del procuratore distrettuale qualcuno si degna di prendere in mano il file su questo macellaio pazzo Michelle Sugar era la nuova vice procuratore distrettuale e decide di occuparsene lei era una donna determinata che si è dedicata completamente al caso decisa a far finire il dottor morte dietro le sbarre ma non sarebbe stato facile perché mai nessun dottore era finito in prigione per qualcosa che aveva fatto in sala operatoria perché come già detto era molto difficile riuscire a dimostrare l'intenzionalità ma poi ad un tratto le si accende una lampadina Mary Eifford vi ricordate una delle pazienti di Dunge che era rimasta paralizzata lei aveva più di 65 anni quindi per la legge del Texas era considerata un'anziana di conseguenza avrebbe potuto accusare Dunge di abuso sugli anziani e per questa accusa si possono scontare dai 5 anni fino alla prigione a vita oltre questo ovviamente c'era anche che appunto aveva ucciso due persone aveva reso il suo migliore amico d'infanzia un tetraplegico Sugar stava mettendo insieme un caso da presentare ad una giuria ed era abbastanza sicura che ci sarebbero riusciti sarebbero riusciti a far arrestare Dunge riescono infatti ad ottenere un mandato d'arresto ora dovevano solo aspettare che Dunge tornasse in Texas dal Colorado e il 21 luglio del 2015 Dunge va in Texas per trovare i suoi figli e finalmente la polizia va lo ammanetta e lo arresta in centrale lo interrogano e oh mio dio amici io raramente ho odiato qualcuno così tanto durante le mie ricerche perché cerco sempre di essere empatica ma ho ascoltato un podcast su questa storia e c'è proprio il suo interrogatorio la registrazione del suo interrogatorio e c'è la gente che lo sta interrogando e che gli sta spiegando tutte le sue accuse e gli fa il nome di tutti i pazienti che ha mutilato malamente e lui con tutta questa calma inizia a manipolare le informazioni cercando di convincere la gente che le operazioni che ha eseguito erano da manuale inizia a recitarle tipo a memoria facendo diagnosi usando paroloni medici dicendo ho dovuto fare questa cosa ho dovuto fare quello dando sempre la colpa a qualcun altro ah no quella volta sono stato distratto da quella persona lì la colpa era sempre di qualcun altro una delle cose assurde è che ora Dan era in prigione ok lo avevano arrestato e non sarebbe potuto uscire e avrebbe dovuto aspettare l'inizio del suo processo che sarebbe cominciato dopo 18 mesi e come ho spiegato anche in qualche altro video l'imputato può passare quel tempo che precede il processo o in prigione o a casa sua questa cosa però la decide un giudice decide se fissare una cauzione oppure no così che se qualcuno è in grado di pagare quella cauzione puoi uscire in libertà vigilata almeno fino al processo Dan voleva assolutamente ottenere la libertà su cauzione e il motivo sapete qual è? il motivo è che voleva riuscire a riottenere la sua licenza medica che nessuno gli avrebbe mai dato nello stato del Texas ovviamente ma per farvi capire la follia di quest'uomo dopo aver fatto così tanto male dopo aver fatto così tanti danni alla gente c'è la registrazione di una telefonata a suo padre in cui gli dice proprio se solo potessi uscire di prigione potrei magari provare ad ottenere la licenza medica magari in Colorado almeno avrei un ruolo mi sentirei importante perché qui in prigione non posso far nulla sto seduto tutto il giorno e questo è il problema di questo elemento da sempre ha avuto bisogno di un ruolo che gli desse valore senza si è sempre sentito così tanto perso che è stato disposto ad uccidere pur di tenersi quell'identità quel ruolo che lo rappresentava come dice uno dei suoi vecchi amici dell'università Christopher Dunge era così ossessionato dalla persona che voleva diventare da non riuscire neanche a vedere la persona che davvero è infatti anche per tutto quel tempo che ha passato in carcere prima del processo Dunge ha continuato a dire con sicurezza che lui non aveva fatto niente di male comunque le telefonate in carcere sono ovviamente tutte registrate quindi consapevoli di cosa avrebbe fatto se il giudice gli avesse concesso l'uscita su cauzione chiaramente gliela negano il processo comincia il 2 febbraio del 2017 in America come sapete c'è una giuria composta di persone normalissime che hanno l'ingrato compito di emanare poi un verdetto e la giuria non ne sapeva nulla di neurochirurgia quindi in qualche modo dovevano insegnargliela per fargli comprendere davvero il male che Dunge aveva fatto di questa cosa si è occupato il dottor Lazar un neurochirurgo molto esperto che è riuscito ad accattivare la giuria e a spiegare tutto in un modo così chiaro e semplice che non solo aveva convinto la giuria ma sembrava avesse convinto persino Chris Dunge finalmente del fatto che fosse un pessimo un chirurgo era come se fino a quel punto nella sua testa si era sempre convinto del fatto che fossero tutti gelosi di lui che stessero tutti complottando contro di lui ingiustamente che avessero tutti torto tranne lui ma sentire tutti gli sbagli che aveva fatto sentirlo in un modo così chiaro da un esperto ha fatto effetto su Dunge in tribunale viene fuori che in tutto Chris Dunge aveva avuto 38 pazienti aveva operato su 38 persone nella sua carriera dopo la scuola intendo e su 38 persone 33 erano rimasti mutilati o con dei danni permanenti 2 erano morti e solo 3 erano usciti dalla sala operatoria senza complicazioni nei problemi 3 su 38 e anzi possiamo dire che 3 sono morti vi ricordate Jerry Summers l'amico di infanzia di Dunge purtroppo è morto all'inizio proprio di quest'anno del 2021 a causa di un'infezione che gli è venuta a causa delle sue condizioni chiamano anche diverse vittime a testimoniare ovviamente e anche la ex amante di Dunge Kimberly Morgan la sua assistente che adesso era un maggiore nell'aeronautica militare Dunge l'aveva così tanto traumatizzata che aveva completamente cambiato mestiere e settore chiaramente viene letta in tribunale l'inquietante email che Dunge le aveva mandato in cui diceva di essere pronto a diventare un assassino a sangue freddo erano tutti d'accordo compreso suo padre che Dunge fosse un narcisista con un complesso di dio un bugiardo patologico e con un ego così spropositato da non rendersi proprio conto di quanto facesse schifo come chirurgo fondamentalmente e il suo orgoglio e la convinzione accecante di essere più bravo di tutti un dio sceso in terra come aveva scritto anche ripetutamente nelle sue mail gli facevano pensare di essere comunque meglio di tutti di fare tutto meglio di tutti nonostante fosse palese che non fosse così alcuni invece propendevano più per la teoria che fosse uno psicopatico e basta cioè che fosse malato Jim Fallon un neuroscienziato esperto negli studi degli psicopatici e dei serial killer sostiene che Dunge fosse un sociopatico spiega che la differenza tra un sociopatico e uno psicopatico è che lo psicopatico non capisce che quello che sta facendo è sbagliato o immorale invece il sociopatico lo sa lo capisce e lo fa lo stesso e la mail che Dunge aveva mandato a Kimberly lo confermava abbastanza no? Jim Fallon però non ha potuto analizzare Dunge in prima persona ha analizzato solo gli atteggiamenti pubblici diciamo di Dunge le cose che appunto si sapevano perché da quello che ho letto non è mai stata fatta una vera e propria perizia psichiatrica su Dunge o perlomeno non è mai stata rilasciata al pubblico e sarebbe interessante capire se effettivamente fosse un sociopatico diagnosticato anche se voglio dire ci sono diversi neurochirurghi a pensarlo quindi beh posso crederci io mi fido di loro il 14 febbraio del 2017 la giuria si ritira per deliberare e ci mette solo 4 ore per arrivare ad un verdetto unanime colpevole Christopher Dunge viene condannato a passare tutto il resto della sua vita in prigione finalmente e finalmente le vittime hanno ricevuto giustizia questo purtroppo non le farà tornare come prima non farà tornare in vita quelli che non lo sono più ma ha dato un lievissimo senso di sollievo a loro e alle loro famiglie amici queste sono tutte le informazioni che ho su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già esiste un telefilm che consiglio vivamente che si chiama appunto Doctor Death quelli di voi che l'hanno già visto sono sicura che saranno rimasti sbalorditi da quanto il telefilm sia fedele alla realtà amici vi ringrazio questo video sarà lungo credo due ore non ho più la voce mi fa male la schiena a pensare a tutte queste operazioni ho l'ansia non andrò mai più dal dottore ogni volta che andrò dal dottore so già che penserò a questo pazzo vi ringrazio di aver passato tutto questo tempo con me anche oggi e ci rivediamo come al solito al prossimo video ciao 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 ciao